Meghan Markle e il principe Harry hanno perso una lezione cruciale dalla regina, ha affermato un commentatore reale, la commentatrice reale Daniela Elser ha affermato che il duca e la duchessa di Sussex avrebbero potuto conoscere il potere del silenzio dal monarca. La Elser ha detto che se mai c'è stato un momento nella storia reale in cui la 95enne ha messo in pratica quella filosofia, è stato negli ultimi 365 giorni. Il commentatore reale ha evidenziato come la regina abbia rilasciato una breve dichiarazione giorni dopo l'intervista a Oprah Winfrey di Harry e Meghan un anno fa, ma da allora è rimasta in silenzio. La signora Elser ha detto che Harry e Meghan, nel frattempo, avevano appena iniziato a dire la loro verità dopo la loro intervista televisiva nel marzo 2021. Scrivendo per news.com.au, ha detto, all'epoca, sembrava che il palazzo fosse tristemente miope, aggrappato al loro antico modus operandi di silenzio impervio, rifiutandosi rigidamente di impegnarsi o considerando di fare le cose in modo diverso in faccia anche di questo pasticcio senza precedenti. Tuttavia, con il senno di poi, si è rivelato un approccio scaltro a una situazione febbrile, non importa se i Sussex hanno lamentele che meritano di essere affrontate adeguatamente, e penso che ne abbiano alcune. La loro ripetuta e ipocrita messa in onda ripetuta di biancheria sporca di famiglia ha in realtà solo inferto loro un duro colpo alle pubbliche relazioni. Il commentatore reale ha aggiunto che Harry e Meghan sembrano aver perso entrambi la lezione cruciale che, la regina, avrebbe potuto insegnare loro non solo sul potere ma sulla dignità del silenzio. I commenti della signora Elser arrivano dopo che i Sussex hanno fatto una serie di affermazioni bomba sulla monarchia nella loro intervista televisiva. Harry e Meghan hanno accusato un reale senza nome di razzismo contro il loro figlio Archie prima che nascesse e l'istituto di non aver aiutato la duchessa quando aveva tendenze suicide.